Eccoci qua, siamo a Rimini, te l'avevo detto, il 22 e il 23 ottobre all'Hotel Le Conchiglie c'è questo grandissimo evento su come costruire un business di successo online. Ma prima di tutto voglio darti qualche consiglio in più su come costruire e individuare la tua nicchia di mercato precisa. Perché mi hai detto, ah ma allora io potrei fare una bella rivista su come si coltivano le piante e metterci anche tutti i semi che ci sono dentro e poi dopo un bel po' di news sulla coltivazione delle piante in serra. No, non andiamo bene, cioè la prima cosa che devi fare è non pensare in termini di adesso faccio questo, ora gli costruisco quest'altro, l'idea è questa qui, no, non va bene. La prima cosa che devi fare è pensare in termini di un problema, un vero problema che le persone abbiano, un qualcosa, come si fa a trovare un posto come ad in treno quando il posto non ce l'hai? Come posso fare a bere quando non c'è niente da bere, non c'è neanche il bar? Questi sono dei problemi veri. Quindi la prima cosa da fare è individuare un problema. Un problema si riconosce da come viene descritto, espresso. Quindi non è voglio fare una rivista con questo, questo e questo, ma è come si fa o come posso risolvere questa cosa, imparare questa cosa, conoscere o aggiustare questa cosa qui. Quindi, punto numero due, cerca qualcuno oltre a te che questo problema ce l'abbia. Cioè se tu non conosci nessuno che ha questo problema, lascia perdere. Non è una nicchia buona. Step numero tre, vai da questa persona che conosce, un tuo vecchio cliente, un amico, un conoscente, qualcuno che ti apprezza, e gli dici, tu hai questo problema? Bene. Senti, se io ti mettessi davanti il monitor di Google e ti dicessi, senti ora c'è questo problema e sei isolato dal mondo, c'è solo il monitor del tuo computer e Google, tu cosa scriveresti se volessi risolvere questo problema? E prova a segnarti le parole esatte che lui usa. Questi sono i primi passi che puoi fare per individuare la tua nicchia. Poi per approfondire, continua a vedere i miei video e prenotati subito per il 22 e il 23 ottobre all'hotel Le Conchigli dei Rimini. Io vado a prendere un taxi, ci vediamo.